Presentato il calendario storico e l'agenda 2020 dell'Arma dei Carabinieri, il prodotto editoriale vanta oltre un milione di copie. Giunta la sua 87esima edizione, la storia del calendario risale al 1928, ripresa poi nel 1950 dopo l'interruzione bellica e da allora è stata puntualmente interprete con le sue tavole della vicinanza dell'Arma ai cittadini e attraverso di essa l'Italia. Quello del 2020 è un calendario narrativo da leggere, racconta la solidarietà e l'attenzione verso il prossimo con cui ogni militare dell'Arma tutti i giorni in Italia e all'estero svolge il proprio servizio attraverso le tavole realizzate dall'artista Mimmo Paladino, massimo autore contemporaneo. Leggere queste pagine ci riportano a dei momenti di vita, di contatto con i cittadini che l'autrice ha saputo cogliere dai racconti stessi dei Carabinieri e l'autore delle tavole, quindi questo bravissimo pittore ha riportato con questi gesti, questi colpi di pennello quelle immagini rappresentate per iscritto invece dalla Mazzantini. L'agenda storica 2020 invece è incentrata sul tema il centenario della scuola Marescialli e della nascita di salvo d'acquisto, che attraverso numerosi inserti guida il lettore nelle varie tappe della storia, dall'importante istituto di formazione fino all'odierna scuola Marescialli e Brigadieri, raccontandone l'evoluzione e le varie sedi utilizzate a partire dal lontano ottocento. La manifestazione è stata inoltre occasione per presentare altre due sempre più apprezzate opere editoriali, il calendarietto da tavolo dedicato alle piazze d'Italia e il planning da tavolo che racconta la banda dell'arma dei Carabinieri, fiore all'occhiello dello straordinario patrimonio bandistico italiano nel centenario della sua istituzione.